Faetano che deve cercare di accorciare ricordiamo che il Domagnano gioca proprio in contemporanea a questa partita, intanto si può partire nel turno infrasettimanale nella sfida giocata martedì ad Acquaviva contro la San Marino Academy ed ha appunto rosicchiato tre punti al Domagnano che invece ha perso contro il San Giovanni interrompendo data attenzione subito alla penna rossa questa occasione, pintore esce però Manzaroli sta trovando minutaggio il classe 2002 attenzione a Ndao che però viene fermato, ancora però il Faetano con questo filtrante, ora Dulcetti può calciare lo fa, Barbieri grande risposta in tuffo scocca il sesto minuto, ancora 0-0 Dulcetti Dulcetti guarda in mezzo poi il velo di Terenzi attenzione al pallone dentro Capriotti ancora Barbieri San Marino che negli ultimi anni si è aperto diciamo così anche a sfide con selezioni non europee come è successo ad esempio con Santa Lucia come accadrà appunto con Sanchizia Nevis intanto l'imbucata di Capriotti che segna e il gol è valido e allora sblocca il punteggio il Faetano la squadra di Danilo Girolomoni arrivato alla fine del 2023 attenzione intanto altra palla dentro e questa volta segna il numero 10 Brisigotti ecco il fischio del direttore di gara va Michelotti palla non lontana dalla porta Lisi il cross al centro dell'area di rigore prova ad arrivarci Gheye fa prima di lui Spagnoletti gliela porta via poi Gheye che può entrare in area Gheye cross sul secondo palo colpo di testa si alza però la bandierina gol annullato ad Acquarelli trologo il lancio in avanti per lo scatto di Pintore che la mette giù bene Pintore si gira in area di rigore Pintore calcia e trova un bellissimo gol 2 a 1 dunque per il penna rossa che accorcia Brisigotti con il petto Isarai Omar lancio in avanti però è Spagnoletti lo rincorre Senia Spagnoletti se la porta avanti con la testa entra in area di rigore difende palla spalla alla porta poi gli ha la porta via nuovamente Lisi poi ancora Spagnoletti che calcia si era alzata la bandierina Fadel si gioca Fadel calcia Fadel Bertuccini che crossa con il destro Capriotti manca il pallone allontana la difesa del penna rossa che ora può andare in contropiede il colpo di testa a favorire Michelotti che si ferma poi va da Pintore scambio tra i due Michelotti ancora per Pintore in area di rigore Pintore respinge Manzarogli la palla è ancora viva il cross sul secondo palo c'è Michelotti che può calciare lo fa e c'è il pareggio del penna rossa 2 a 2 dunque la squadra di Chiesa Nuova recupera i due gol di svantaggio Bertuccini che ha tanto spazio davanti a sé va a cercare Capriotti che la mette giù bene Capriotti calcia in diagonale palla fuori con il petto Omar Bertuccini Brisigotti occhio a questa palla sbagliata viene va giù in area c'è calcio di rigore calcio di rigore per il penna rossa con Pintore dovrebbe essere lui non si leggono benissimo i numeri sulla maglia ma dovrebbe essere lui Pintore contro Manzarogli al settantacinquesimo parte Pintore gol il penna rossa ribalta questa partita e passa in vantaggio e passa in vantaggio 3 a 2 Barbieri al rinvio diamo un'occhietta al cronometro che dice 77-55 con il Faitano con Terenzi che viene messo giù e c'è un altro calcio di rigore questa volta nell'area del penna rosso a favore dunque del Faitano Fabrizicotti rete rete 3 a 3 che partita dunque qui a Domagnano sempre Lisi attaccato da Montalti palla che passa attenzione perché sono in 4 in area di rigore quelli del Faitano Barbieri super parata del portiere del penna rossa poi Pintore lotta con Rossi che viene messo giù scivola Marrone poi attenzione al contropiede del penna rossa Pintore allarga dall'altra parte per Fadel Fadel entra in area di rigore numero 20 punta il diretto marcatore si tratta di Terenzi Fadel Fadel trova il 4 a 3 in pieno recupero 4 a 3 del penna rossa incredibile ammoniti entrambi dunque sia Capriotti tanto c'è anche un rosso espulso Capriotti espulso Capriotti dunque Faitano sotto e anche in 10 ora si gioca ancora Rossi batte la punizione palla che arriva in area di rigore c'è anche Manzaroli su chiedono un fallo di mano quelli del penna rossa e finisce qua arriva la prima vittoria in stagione per la squadra di Chiesa Nuova che esulta giustamente perché si toglie un peso ed è il giusto premio per comunque l'impegno che ci hanno messo i ragazzi di Dolci in questa partita che li vedeva sotto per 2 a 0 però Grazie a tutti.